bentornati nel mondo di tolkien dove continuiamo ad analizzare il libro chi vuole uccidere tolkien analisi dello show gli anelli del potere e del baratro infocato da cui è venuto critica ovviamente analisi del dello show rings of power ovviamente la prima serie e quindi se non hai visto ovviamente l'introduzione il primo e secondo capitolo ti consiglio ovviamente di recuperarli per non perdere il filo conduttore dove abbiamo visto nel primo capitolo critica specializzata analisi tecnica e nel secondo invece abbiamo dato uno sguardo invece più alla scenografie e cgi grandi meniti o gravi cadute quindi spesso le scenografie che sono mancanti quindi passiamo quindi al capitolo 3 invece capitolo 3 che si concentra sulla regia e particolarmente su alcuni aspetti delle regie infatti capitolo 3 regia e slow motion a tutti i costi alla regia si alternano tre registi diversi ma nessuno riesce a fare dei capolavori e gran parte della colpa probabilmente va attribuita al fatto che devono seguire un copione scritto male copioni tipo lost e bad robot quindi con misteri plot twist assurdi eccetera cose che con questo universo ben poco c'entrano quindi non mi sento di dire che ci sono delle regie di merda in quanto sono gli script che probabilmente fanno un po schifo tipo la spada già citata e anzi credo sinceramente che dato il materiale di partenza forse hanno tratto tutto il meglio che potevano probabilmente un quentin tarantino leggendo il copione si sarebbe messo a ridere come un pazzo poi li avrebbe insultati e se ne sarebbe andato quindi tenendo bene a mente ciò vediamo le regie più nel dettaglio la cosa assolutamente più fastidiosa sono le continue copie di scene o citazioni dei film di jackson completamente gratuite come la scena in cui galadriel eteo si nascondono sotto ad un tronco per sfuggire agli orchi così come i quattro hobbit si nascondono sotto un tronco per sfuggire al cavaliere nero nella compagnia dell'anello inoltre non solo dal signore degli anelli ci sono scopiazzature palesi ma anche da altri media il quinto episodio si apre con una scena proprio la scena di apertura che sembra il funerale di dobi nei doni della morte per un attimo ho pensato di avere sbagliato film nel settimo episodio un cavallo fugge con la groppa in fiamma e galadriel lo schiva scena ricalcata da game of thron non è azzardato dire che ce ne sono decine ad episodio e nell'ottava puntata raddoppiano non proprio originale come prodotto queste cose sono continue ricorrenti fastidiose e su cui faremo quindi uno specifico focus quindi c'è un capitolo dedicato più avanti altro elemento sgradevole è il salto in avanti acrobatico alla tora la wonder woman insomma un po di marvelliana memoria rigorosamente a rallenti fatto da galadriel e a rondier più volte per sferare attacchi con la spada o quant'altro una volta può andare ma quando inizia a farlo due o tre volte anche a poca distanza perde di senso non è la marvel e gli elfi non sono spider man altra cosa assai brutta e l'utilizzo del classico cliché da film horror il jump scare letteralmente saltare dalla paura dove da prima vedi un'ombra muoversi veloce percepisce una presenza per non vedere però nulla quando ti giri logicamente poi ti rigiri per ritrovarti davanti alla creatura o lo zombie di improvviso o in questo caso un orco tolto che gli orchi non si muovono come una creatura soprannaturale come un poltergeist uno zombie eccetera e il taglio thriller horror non c'entra nulla con questo universo va bene la prima volta quando gli orchi non li hai mai visti e li devi presentare ma una volta che lei presentate non ha più senso farlo e invece persino alla battaglia durante il sesto episodio del persino durante la battaglia del sesto episodio dove gli uomini del sud sono assediati devono anche in quel caso far passare l'ombra fuggevole misteriosa davanti ad una finestra con l'occhio tra come fosse un mistero che fuori ci sono degli orchi per poi farli entrare dalla porta principale un secondo dopo ridicolo scene di combattimento assurde come nell'occasione in cui galadriel elfa millenaria sfida la spada 5 ventenni numenoreani contemporaneamente volendo citare alla spada dell'alba di game of thrones e ovviamente ne esce una sorta di balletto che sembra un mix tra pirati dei caraivi i tre moschettieri e matrix solo che mentre i primi due non avevano il pretesto di essere film seri ma erano scene quasi comiche il terzo è contestualizzato in un universo olografico dove non vigono le leggi del mondo fisico e quindi si può infrangere in questo contesto invece la scena ne esce malissimo dove l'elfa da anche una sculacciata nel sedere con la spada uno dei ragazzi citando ovviamente anche kill bill e non c'è il minimo studio sulle tecniche di schermo siamo al limite del trash e siamo anche ai limiti del trash nel combattimento a rondir orco gigante citazione dell'hobbit legolas contro bolg dove già inizia con a rondir che indietreggio sbatte contro l'orco in piedi che lo aspetta che ovviamente sta ferma non fa nulla e già pensi alle comiche cliché poi il combattimento è degno delle scazzotate anni sessanta delle serie televisive o di bass per essere teresil un overture di cliché e da ridicolo si passa al vergognoso di cose horror nel senso di orribilis ce ne sono parecchie su cui soprassiedo ma la peggiore certamente il continuo utilizzo del rallenti completamente a caso tranne in una scena il rallenti un'arma a doppio taglio e va saputo utilizzare altrimenti non solo non si ottiene l'effetto desiderato peggio fa scadere nel grottesco un esempio è la galoppata di galadriel che sembra dapprima una pubblicità dello shampoo e una volta che la telecamera inquadra il sorriso tra virgolette di galadriel un film del terrore effetto e recitazione completamente errati quando ranger fugge nel bosco con teo inseguito da 30 ore chi abbiamo un'altra perla la scena è tutta rallenti dove l'elfo di colore afferra le frecce che gli vengono scagliate dagli orchi e le rimanda contro ai suoi nemici in tutta la scena a rondir scaglia solo tre frecce legolas ne avrebbe scagliate almeno 10 o 15 a ripetizione quando sei solo davanti a tanti nemici ti salvi se sei in grado di abbatterne molti ma se usi il rallenti sembri un bradipo e non ammazzi seriamente nessuno pertanto il salvarsi tra virgolette appare casuale fortuito e ridicolo come appunto la coincidenza del sole che sorge proprio mentre escono dal bosco e gli orchi non possono fare più nulla per inseguirli quindi un bel deus ex machina che sono continui in questa serie scelta completamente errata di effetti completamente errati questa serie piena al punto che sembra fatto da studenti di cinematografia del primo anno e fanno le prime prove con la macchina da presa peccato che sia una serie da mezzo miliardo di dollari la colpa sta anche nel fatto che non c'è un regista comune a tutti gli episodi ma la camera passa di mano e questo va a creare tagli diversi oppure riutilizzare spedienti registici già usati perché non credo che i registi sia stato mostrato ovviamente tutto il materiale girato e non potevano forse sapere quale tecniche fossero già state utilizzate ad ogni modo vediamo le regie più nel dettaglio episodi 1 e 2 j a bayona o j a bayona regista di the orphanage e jurassic world il mondo distrutto ha avuto il compito di aprire le danze e dare un imprinting alla serie abbiamo capito che gli piacciono i primi e i primissimi piani e in particolare il taglio sugli occhi che abbastanza abusato un po in tutti i contesti con galadrine in acqua con nori col metterman nonché nelle scene pulp bayona è un regista horror pertanto a molti è piaciuta la scena in cui si introducono gli orchi nella seconda puntata io detesto gli horror perché sono tutti uguali e usano praticamente uno stampino che non fa più paura dagli anni 90 ma noia sì la scena dell'orco quindi che esce dal pavimento prima mostrando una mano coi lunghi artigli che ovviamente sbuca lentamente dal buco nelle assi per poi vedere l'orco che sta fermo in piedi davanti a un mobile senza senso mafica e bronwyn non lo possa vedere tra le fessure dell'armadio nel quale è nascosto ma subito dopo scompare nella lista senza fare rumore quasi come fosse una presenza demoniaca per poi jumpscare comparire davanti all'armadio aprirlo e in quel momento salta fuori teo quello pugnano ovviamente dall'altro mobiletto loro col ancia la tavola da pranzo di legno massello come fosse di carta li hanno potenziati punto interrogativo bronwyn che lo infizza con una specie di sega lo trapassa l'orco pare nemmeno accorgersene ma si incastra nelle scale quindi teo lo prende con un capio e lo impicca lo tira su ma la corda si rompe e alla fine bronwyn lo decapita con un accetta tipo qualcosa del genere questa scena non c'entra nulla con l'universo di cui tratta gli orchi non si muovono in quel modo non hanno quella forza è bruttissima in quanto spezza con tutto quanto tra l'altro visto fino a quel momento ed è un cliché uno dietro l'altro imbarazzante non si capisce come mai nelle prime due puntate la pelopiedi nori sia continuamente commossa allarmata ansiosa e la sua recitazione viene spinta molto sopra le righe per dare un'enfasi al personaggio che tuttavia non solo non ha ma non è nemmeno giustificata da nulla quando trova il meteorman tra virgolette l'uomo venuto del cielo dentro al cratere dell'asteroide tralasciando l'esagerazione di cliché continui usati con nori pop e tutti i pelopiedi che vediamo poi più avanti lo straniero le afferra il braccio e si mette ad urlare facendo saltare per aria pietra e fuoco e tutto inizia a levitare insomma una situazione potenzialmente molto pericolosa nori da prima urla ma subito dopo non ha la faccia terrorizzata come normalmente si dovrebbe avere ma è tristemente emozionata come invesse visto la sofferenza interiore di qualcuno e ha le lacrime agli occhi ma in quel contesto specifico non ha nessun senso se ci sono dei motivi per cui nori debba avere sempre le lacrime agli occhi nei primi due episodi non sono noti e quindi empatizzare non è possibile recitazione sbagliata dove forse la colpa è del regista perché è più evidente proprio nei primi due episodi forse anche per i primissimi piani la famosa scena inaziale nel troll delle nevi dove gli elfi volano come birilli e vengono battuti come tappeti e dove solo galadrillo ovviamente risulta fenomena è abbastanza ridicola con il classico salto con trampolino la spada del collega utilizzata come trampolino in stile wonder woman con roteate di spada a caso dove più volte galadriel dà anche le spalle alla creatura non considerano la pugnalata in mezzo agli occhi alla povera bestia sconfitta e la sua faccia in quel momento preceduta poco prima dalla scalata alla barriera di ghiaccio in pieno stile game of thrones ma passiamo alle due scene pulp che non hanno il minimo senso la prima coreograficamente più bella mentre la seconda davvero brutta sempre tenendo conto che non hanno nessun senso logico ma solo scenico la prima scena incriminata è quella più amata di tutta la serie più o meno quando mentre galadriel si trova davanti ai portali di valenor alla fine del primo episodio contemporaneamente la cometa con dentro il meteorman sta solcando i cieli della terra di mezzo e passa sopra la testa di quasi tutti i personaggi fino a quel momento presentati la camera costantemente switcha quindi passa da galadriel in conflitto che guarda il pugnale a terra vede la luce l'amico le tende una mano lei tende alla mano un amico a sua volta pensa alle parole del fratello eccetera ognuna di queste scene di galadriel è alternata da una scena nella terra di mezzo la cometa passa sugli galad nel lindon poi su erone che le brimbo nel viaggio verso le region quindi nord ovest poi sopra ronin e bronwyn a sud poi sugli ente a fangorn infine sui pelopiedi e poi sui nori che sono nel nord est e la telecamera switcha di continuo tra galadriel sempre più immersa nella luce nelle lacrime e la terra di mezzo dove al culmine nel crescendo di velocità e musica la cometa dopo aver zigzagato praticamente per tutti i cieli della terra di mezzo si schianta a terra mentre contemporaneamente galadriel si tuffa in acqua la scena mette più inquietudine che meraviglia ma sappiamo che bayone è un regista horror c'è correlazione tra galadriel che non parte la cometa che a terra in parte forse la possiamo anche trovare ma non ha esattamente un senso ma se pensiamo che le sorte della terra di mezzo sono legate alle scelte di galadriel alla lontana un senso ce l'avrà ma non in questa stagione forse tuttavia per quanto poco sensato è scenico come taglio e in quel contesto non disturba troppo se bayona si fosse accontentato di questa scena sarebbe stato meglio invece ha voluto bissare anche nel secondo episodio con la stessa tecnica registrica per dire gli ho fatti io quando il meteo ormene sta cercando di far capire a noi che cosa sta cercando la costellazione e scrive a terra con un legnetto contemporaneamente il padre di nori largo brandipiede sta hissando un palo per la festa del giorno dopo il meteo ormene si agita la corda si spezza il meteo ormene sempre più nervoso il papà di nori sta per cedere il legnetto con cui il meteo ormene sta scrivendo a terra si spezza nello stesso momento in cui si spezza la caviglia del povero largo che nessuno stronzo di pelopiede nel frattempo ha aiutato quale correlazione c'è tra il legnetto che si spezza e la caviglia che si torce nessuna era così per fare un po d'ansia a caso senza senso e movimentare la situazione perché altrimenti la gente rischia di annoiarsi e dormire perché questa puntata è una palla probabilmente la più noiosa tra tutte otto ma questa cosa non funziona perché un senso non ce l'ha se non quello di voler far nascere il dubbio l'ostiano che il meteo ormene sia sauron ma non c'è alcuna collera correlazione fattuale tra la frustrazione dell'uomo e l'incidente del pelopiedi perché se ci fosse dovresti scoprirla nel corso delle puntate ma così non è e nessuno l'ha spiegato e nemmai lo faranno al di là dell'effetto scenico io mi chiedo ma Bayona ha capito che questo tipo di tecnica serve per correlare due eventi dove di solito una è la causa e l'altro è l'effetto o gli piace solo perché crea strategicamente tensione e dubbi nello spettatore domande queste alle quali solo lui forse può rispondere una di queste potrebbe essere nel copione c'era scritto così anche le scene della zattera in mezzo alla tempesta hanno tutte poco senso come galadriel che viene colpita in testa e affonda svenuta e albrand si tuffa per salvarla mentre lei legata ad una trave di legno che dovrebbe galleggiare affonda lui seguendo la corda va sempre più giù estrae il pugnale di galadriel famoso pugnale dato che è svenuta sott'acqua ricordo taglia una cima bagnata sott'acqua acciaio elfico è un laser sempre lei è svenuta emergono dall'acqua ed è sveglia e poi ci sono altre cose ma non si può sapere fino a dove la colpa sia del regista o dello script che si è trovato in mano quindi queste sono certamente le cose che saltano di più all'occhio passiamo quindi a wayne che hip quindi con gli episodi 3 4 5 e 8 quindi anche il finale di stagione regista giovane nato nelle teen drama fiction è passato alle science fiction a lui è stato dato il compito di rappresentare il numero gli intrighi politici centrali alla serie e di girare anche il finale di stagione di certo tra le sue puntate avendo girato mezzo show troviamo sì delle gravi cadute ma sicuramente quello che ha fatto anche il lavoro migliore per certi aspetti a lui vanno accreditate anche le peggiori scene a rallenti e forse la peggior scena in assoluto galadriel a cavallo che da una pubblicità dello shampoo si trasforma nella pubblicità della crema per le emorroidi quando si ferma la camera sul sorriso di galadriel sempre sorriso tra virgolette talmente brutto che potrebbe essere traumatico per i bambini visto che sembra il grinch scena completamente errato altro slow motion assai patetico è il presentatarma a galadriel alla partenza delle truppe da numenor ennesima pompatura di un personaggio fin troppo pompato il rallenti mentre sale sulla nave e tutti i soldatini numero nere numero reali si fermano a guardarla incantati è semplicemente ridicolo oppure è una pubblicità di armature fate voi il terzo episodio si apre con a ronder catturato dagli orchi non sappiamo da quanto tempo sia stato catturato o per quanti chilometri sia stato trascinato pertanto non si capisce come mai tassanissimo che era lo troviamo quasi in moribondo il regista tuttavia sfrutta questo aspetto della incertezza temporale e geografica per usare anche delle immagini frizzate effetto strips tra l'ornirico e il comics per aggravare la sensazione di dram tecniche già usate ai tempi del gladiatore e di 300 le quali però hanno senso in quel contesto in questo far vedere il cambio di mano alla regia punto interrogativo la scena di albrand che mena quattro tipi in un vicolo con la rottura scomposta di ulne e radio dell'avambraccio di quello grosso con pigiata di peso sullo stipide della porta dove il braccio si spezza a metà è letteralmente esagerata e orribile oltre che gratuita certo si scoprerà che albrand è il cattivo circa ma proprio perché vi è un'incertezza di fondo su tutto questo arco narrativo e che analizzeremo per ultimo quel dettaglio stona ed è un po esagerato ora però sappiamo cosa significa menare come fabbro la scena slapstick del meteorman che si incespica o cade dentro l'accampamento dei pelopiedi coperto di teli come un mostro tutti si spaventano e corrono a nascondersi è fatta davvero male ed è uno dei peggiori cliché da usare nemmeno i film cinesi usano più i ritrovati da comiche anni 30 40 dell'uomo ricoperto di alghe che sembra un mostro la scena dove galadriel evade e butta quattro guardie numenoreane in cella con queste che si buttano in cella da sole è buttata lì e non ha la minima cura così come subito dopo scala una torre a mani nude spacca una finestra ed entra forza nella sala del remorente di prepotenza imbarazzante nemmeno lui si risparmia le scene con gli orchi replicando nuovamente i cliché thriller horror dove anche in questo caso teo che sta cercando del cibo nella locanda di waldreg prima sente cigolare una porta e quindi cosa fa chiama l'amico per sapere se è lui certo perché così se non fosse lui riveli meglio la tua posizione al nemico anche qui vediamo la solita ombra fuggevole per poi quando teo si alza da terra lentamente logicamente allorco alle spalle ma che ovviamente non fa nulla finché teo non si gira e lo vede una serie di cliché registici talmente abusati che ne faresti volentieri a meno oltre che non c'entrano nulla col tema epic fantasy che dovrebbe essere scene che prosegue con teo che è riuscito a fuggire si nasconde dentro al pozzo e anche qua abbiamo cliché su cliché fino allo slow motion di arondir che tira tre frecce in tutto e finisce con un bel deus ex macchina col sole che sorge tutto assurdo l'ultimo episodio poi col meteorman che sembra goku che lancia onda energetica i pelopiedi che sembrano gli uoks di star wars albrand che è diventato loro vader e nekin skywalker e le continue citazioni tra i vari media ha delle cadute davvero indecenti e siamo oltre il limite del ridicolo ma suppongo che molta sia farina degli showrunner quindi passiamo agli ultimi due episodi 6 e 7 girati da charlotte brandstrom regista franco svedese principalmente di film tv viene spedita in un posto isolato dell'isola sud nella nuova zealand a girare questo episodio e mezzo ovvero la grande battaglia per le terre del sud e credo che siano i due episodi peggiori della serie timo la colpa sia anche in questo caso da attribuire allo script e certamente questa regista ha fatto il possibile ma quando non è il metro di misura su tutta l'opera accadono cose come il sole che sorge ad ovest eserciti che arrivano con un giorno di anticipo battaglie con stratagemmi alla kevin mccallister e torri tenute insieme con lo spago letteralmente da far crollare al momento opportuno chi poteva immaginare che le torri della terra di mezzo fossero costruite con un sistema di autodistruzione probabilmente per recuperare i massi velocemente scazzotate della peggiore risma in stile n60 con una goffaggine di rondier che non collima coi saltoni le acrobazie a cui siamo soliti vedere impegnati gli elfi e che vedono lo stesso saltare giù dalla torre senza nemmeno piegare le ginocchia all'atterraggio o vederlo mentre letteralmente cavalca l'orco gigante a cavalcioni o vederlo lanciato a destra e sinistra come un sacco di patate altro che leggo la scontrovolga o bronwyn che nascosta deve accendere una torcia per dare fuoco ad un carretto trappola con la paglia ma ovviamente non si accende la torcia arriva quindi un orco proprio lì con una provvidenziale torcia in mano e le lo attacca lanciando un urlo ma ancora si fanno scene di battaglia dove gente urla rivelando la posizione e allertando il nemico punto interrogativo tuttavia l'orco muore e gli fornisce il fuoco necessario che fortuna lanciato il carretto infuocato per dar fuoco ad una specie di trincea un orco commenta maledetti idioti ci hanno mancati e ovviamente come se non potesse esserci un'altra scena disponibile quello stesso orco viene colpito in faccia da un altro carretto infuocato ma dovrei far ridere il tutto per intrappolare gli orchi dentro dei cavalletti da falegname non sto scherzando che giustamente questi abbattono con un calcio per poi dirigersi alla taverna dove sono nascosti tutti i civili ma per quale motivo dovrebbero dirigersi dentro la taverna per bere un bicchiere di vino cosa ne sanno poi dei civili che sono all'interno poi quegli orchi che fino a due puntate fa non beccavano un bersaglio a 20 metri adesso nella notte a 100 metri sono dei cecchini che colpiscono ogni cosa tra cui bronwyn che ovviamente non muore per il medicamentoso intervento di arondir e teo che le cauterizzano la ferita con un tizione ardente in un'altra scena splatter gratuita tra uno svenimento e l'altro tolto l'errore anche nei dialoghi della ritirata di arondir che urla di andare to the keep cioè al mastio o alla torre in italiano quando non sono in un castello e non c'è nessuna torre probabilmente si è già pentito di avere distrutto quella che aveva al che tutti gli uomini nel sud straniti avranno pensato a quale torne fortunatamente arriva teo tutti nella taverna e questi poveri cristi sanno anche dove andare le doti militari di questo elfo guerriero sono poco pervenute poi la cavalleria unico rallenti fatto bene che arriva al momento giusto e dove galadriel si spezza la spina dorsale a cavallo in assetti da combattimento totalmente irreali orchi atterrati come birilli presi da una catena tirata tra due cavalli come nei peggiori film medievale di 70 per non parlare ovviamente dell'esplosione del vulcano mobile dove nel sesto episodio è a 5 chilometri dal villaggio e nel settimo almeno a 25 insomma questi due episodi sono un'accozzaglia di deos ex machina non sense e cose a caso e per quanto certamente diano finalmente movimento e azione questa azione è costruita senza nessun senso logico attenzione ai dettagli o coerenza tutto accade perché sì perché lo diciamo noi e chi cerca coerenza è solo un povero sciocco la si voleva l'azione ma non così la cosa che un po salva il sesto episodio è la colonna sonora più bella e coinvolgente anche negli effetti audio di alta qualità e che si amalgamano alle immagini in modo coerente differentemente da quanto ho sentito fino a quel momento immagini ovviamente ben costruite in definizione il che ovviamente delude ancora di più se ciò che guardi è esteticamente bello ma tutto ciò che si è visto non ha senso per tre quarti delle scene poi c'è l'immediata caduta dell'episodio 7 che è di una lentezza mortale oltre che totalmente realistico vedere persone che dopo un'esplosione vulcanica e in mezzo ad un assedio di orchi lasciano le terre del sud lentamente e compostamente senza incontrare nemmeno uno di orchi a parte una scena quella appunto sotto il troco l'episodio 6 è una carrammata continuano effetti scenici atti a sorprendere allo spettatore che tuttavia non hanno il minimo senso letteralmente un prodotto dozzinale condito sempre dalle solite immagini in cgi e ultra e definition che lo trasformano in qualcosa di esteticamente bello sonoramente strepitoso oserei dire ma intrinsecamente una stronzata colossale per poi proseguire con una battuta d'arresto tremenda e un crollo verticale dell'azione con una puntata quasi intimista fatta di confidenze che non ha nessuna ragione d'essere tra orchi e vulcano una ritirata realistica avrebbe dovuto essere fatta in tutt'altro modo forse la donna a girare battaglia non era la scelta migliore sarò certamente maschilista a dire questo in una serie votata al femminismo a tutti i costi anche l'azione femmina in effetti vediamo elendi il piangere e comportarsi in un certo in modo eroico dato che non torna nemmeno indietro a cercare il figlio cosa che ha fatto invece bronwyn nel terzo episodio i termini viene invece giurare vendetta e rifiutare pure la compassione e l'aiuto offerto le dato che ha perso la vista ruoli ribaltati vediamo teo confondersi due volte mentre cerca sua madre allo stesso modo per poi trovarla sana e salva e straordinariamente pulita come sempre nonostante siano tutti coperti di cenere vulcanica una cosa la sappiamo di sicuro galagre ha avuto tutto il tempo per tirare fuori il maggior numero di perle rispetto ad ogni altro episodio ma questo non vediamo più avanti nei dialoghi si conclude quindi qui il terzo capitolo di chi vuole uccidere tolker analisi della prima stagione degli anelli nel potere e noi ci vediamo per il prossimo capitolo